In Lombardia, così come in Italia, il tumore al seno è ancora il primo tra i tumori femminili. A livello nazionale, infatti, il carcinoma mammario coinvolge 800.000 donne ogni anno, con un'incidenza che è in continuo aumento, anche se la buona notizia è che circa l'87% dei tumori al seno può essere curato se diagnosticato in tempo. Fondamentale dunque è la prevenzione attraverso screening periodici ed è per questo che la seduta del Consiglio regionale di martedì 19 ottobre si è aperta con un'iniziativa rivolta proprio alla sensibilizzazione di donne, istituzioni e territori per la prevenzione del tumore al seno che si inserisce nell'arco degli eventi del mese di ottobre da sempre il mese rosa dedicato alla lotta contro il carcinoma mammario. Importante che oggi la seduta del Consiglio si sia aperta con questo momento nel mese dedicato alla prevenzione per la lotta e il contrasto al tumore al seno. In questi anni Regione Lombardia, il Consiglio regionale con il personale sanitario e le associazioni di volontariato ha fatto un lungo percorso proprio a favore della prevenzione con l'ampliamento importante delle fasce di screening, con dei percorsi mirati all'interno delle nostre breast unit che sono dei centri di assoluta eccellenza per la lotta al tumore al seno. All'incontro erano presenti anche le rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema la Lilt Lombardia con la sua presidente Silvia Villa, Europa Donna con la presidente Rossana D'Antona e Salute Donna con la vicepresidente Rita Vetere. La cosa che a me interessa di più alla fine di questa giornata è chiedere alle donne di volersi un po' bene noi abbiamo parlato di tutto quello che fanno le istituzioni, di tutto quello che fa il volontariato ma la cosa essenziale è che anche le persone si curino noi diciamo il paziente è al centro della cura ma deve mettersi anche lui al centro oggi abbiamo terapie che sono mirate e non sono più chemioterapie quindi avere dei trattamenti che ci garantiscono se non la guarigione una sopravvivenza di 20-30 anni per cui diventiamo malati cronici e non malati che abbiano paura del tipo di vita che fanno con una qualità di vita molto buona.